Tre repliche ed un fuori programma targato Gabriele Lavia per il Teatro Petrarca, il prezzo, il bugiardo e i duellanti e gli spettacoli che verranno nuovamente messi in scena nel palcoscenico Aretino per eccellenza. Un'occasione quindi per dare a quanti più cittadini possibile l'opportunità di assistere agli spettacoli. Si è mantenuta una promessa nei confronti di quei cittadini che non erano riusciti ad acquistare l'abbonamento per la stagione di prosa del teatro Petrarca e che non riescono magari tutte le volte a comprare quei 20-30 biglietti che nonostante tutto riusciamo a mettere in vendita. Abbiamo fatto le repliche, quindi i cittadini che vogliono andare a vedere uno di questi spettacoli potranno comprare il biglietto singolo agli stessi prezzi di stagione. Si tratta di quello che in altri termini se fatto fin dall'inizio sarebbe stato il turno B che forse potremo mettere in pista il prossimo anno se il successo delle prossime edizioni degli spettacoli teatrali sarà tale da consentire di prevedere un doppio turno anche per tutta la stagione. Voglio aggiungere anche che c'è un quarto spettacolo in vendita a biglietto singolo che è Il sogno di un uomo ridicolo di Dostoievski per opera di Gabriele Lavia che ci ha portato questo nuovo spettacolo perché non è riuscito a fare la replica dei sei personaggi in cerca d'autore e quindi ha voluto un po' colmare il vaso con uno spettacolo diverso che è in vendita a fine mese. Soddisfatta della risposta data dalla cittadinanza anche la fondazione toscana spettacolo Ollus che si occupa della gestione del cartellone degli spettacoli e degli eventi del teatro Petrarca insieme all'amministrazione comunale di Arezzo. I cittadini ci stanno rispondendo in maniera estremamente positiva e questo appunto nonostante continuiamo a vivere e ad attraversare un momento di criticità economico sociale. Siamo passati dai tempi oscuri ai tempi neri come la pece però noi appunto la navighiamo grazie alla complicità dei cittadini, alla complicità delle amministrazioni locali che continuano tenacemente a credere che la cultura sia un investimento e i fatti ci stanno dando ragione.